...per Scanzano, uniti, il sindaco Salvatore Iacobellis! Innanzitutto grazie, non so se riuscirò a parlare per tutto il tempo perché ho una forte faringite. Il mio dottore Tommaso Romano mi ha riempito di cortisone e ha detto che faceva parlare anche un cavallo. Una cosa è certa però, il cortisone ha fatto effetto, il cavallo dell'altra lista è andato a parlare nella 167, come sempre. ...perché i motivi per cui noi vi chiediamo il voto li avete già visti, sono bravi e sono in gamba. Grazie. 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 E poi perché non dobbiamo votare Ripoli? Beh, la destra, che Roma è per il nucleare, si compre i reattori dell'amico Sarkozy, 20 milioni di euro l'uno, fai favore a Putin, Sud Gas Stream, al posto del Nabucco, fanno gli affari col gas con Putin. Questo è la destra in Italia. Poi vengono qui e ci vogliono seppellire sotto un cimitero di scoria. E poi perché dovremmo crederli? Vent'anni fa l'ex sindaco si era litigato con Gallitelli, vent'anni di litigi. Oggi vanno a cena insieme. E Scanzano è rimasto sempre così. Poi si è messo con Ripoli, si sono litigati, ora sono separati. Fra cinque anni saranno di nuovo insieme. E chi pensa ai problemi di Scanzano? Li abbiamo guardati per vent'anni litigare. E che hanno fatto? Si sono mangiati i villaggi turistici. Si sono mangiati il cemento della 106. Questo si sono mangiato. Oggi gli imprenditori possono venire a Scanzano, tranquillamente. Nessuno le ostacola. Possono fare investimenti, guardare con certezza il futuro. Perché ci sono le regole. Non comanda il sindaco. Comandano le regole come in tutti i paesi civili del mondo. E noi non abbiamo paura di affermare questo. Comandano le regole. E poi, signori, che dire? Io sono contento che Ripoli vuole che si faccia la città della pace. Tanto lui fa parte di un'associazione che sta dentro la città della pace. Li conviene. Vuole fare il piano d'ambito. Tanto il suo consigliere si sta comprando tutti i terreni del piano d'ambito. Ma siete venuti a fare politica o i vostri interessi personali? Quali imprenditori che si vengono a comprare le terre e diventano il messia? No, signori. Dell'altra lista non parlo. La composizione dell'altra lista parla da sola. Noi non abbiamo più bisogno di loro. A Scanzano non abbiamo più bisogno della destra. A Scanzano abbiamo bisogno di tutti i cittadini per andare avanti, per far progredire questo paese. Questa è la nostra missione. Loro lasciamoli litigare. Lasciamoli passeggiare. Tanto fra un anno, fra due anni, fra tre anni, questo progetto sarà sempre troppo salato. O perché riguarda i pozzi del sale, o perché riguarda i villaggi che se li sono mangiati vivi. Non vi scordate le feste, le Lamborghini, gli orologi. Il Corriere l'avete letto? Sono stati tutti condannati. Grazie. 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 Grazie.